Oggi vediamo un software che ci permette di modificare mondi Minecraft, pezzi di mondi Minecraft Bedrock messi in Minecraft Java e viceversa importare schematic, esportare schematic sia Minecraft Java, Minecraft Bedrock che Minecraft Education Edition. I saluti a fine video Ok questo è il software Amulet in esecuzione, ho ben tre mondi aperti questo qui è un mondo Bedrock, poi prenderò parte di questi oggetti, li metterò in quest'altro mondo Bedrock ok esattamente questo, ma se volessi come vedete riesco anche ad aprire un mondo Java questo è Raffaello in Minecraft, la parte della città di Urbino che è stato ricostruito in Java quindi potrei prendere anche un pezzo di questo albero e metterlo poi all'interno di uno stesso mondo andiamo a vederlo insieme questo software si chiama Amulet, è raggiungibile, lo puoi scaricare liberamente da www.amuletmc.com c'è la versione per macOS, per Windows e per Linux basta cliccare per esempio se hai Windows come nel mio caso su questo link e ti scarica un file zip io faccio copia collegamento, l'ho già scaricato, ti faccio vedere che è un file zip non ti resta che attendere lo scaricamento di questo file, estrarlo su una cartella e poi cliccare sul file amulet underscore app.exe questa è l'app una volta estratto lo zip, doppio clic e parte amulet, questa è la finestra che ti trovi è sufficiente cliccare su Open World per far comparire questa nuova interfaccia io ho ultimamente aperto questi tre mondi, li hai visti prima, diversamente puoi cliccare su Bedrock e ti apri le cartelle della tua installazione Bedrock oppure Java ti apri la cartella Java, oppure appunto clicchi qui e vai a selezionare il mondo che tu vuoi io sto andando addirittura in una versione che è la versione Minecraft Education Edition ok qua vedi il path, sono nella cartella dei miei mondi e vado a caricare l'ultimo mondo che ho avviato clicco, seleziono la cartella e in background mi apre il tutto è questo l'ultimo mondo che io avevo aperto prima Open World nuovamente e vado a selezionare a questo punto questo mondo e poi ancora Main Menu Open World vado a prendere qualche casa fatta in Java qui vedi la versione e questi tre mondi sono già aperti come si accede? si accede cliccando 3D Editor vengono caricate le risorse necessarie per riuscire a graficarlo e ho questo strumento, io mi sto muovendo con i tasti freccia ok, W, S, D e A ho il mio mouse con il tasto destro riesco a muovere e a ruotare la mia visuale tenendola premuto insomma con un po' di pratica riesci a selezionare gli oggetti io adesso sto premendo il tasto sinistro lo tengo premuto e incomincio a graficare un rettangolo voglio prendere questo oggetto e portarlo in quest'altro mondo intanto apriamo anche questo mondo ritorno nel mio mondo precedente vediamo che sta succedendo, perfetto a questo punto devo scendere in basso come posso fare? vedi quando clicco qua sopra tengo premuto ok, sto sollevando se volessi portare in giù dovrei prendere questa parte e tirarla in basso quando non ci riesco mi possono venire in aiuto questi numeri come vedi questo è verde, come vedi questo è blu quindi se io voglio far scendere questa parte blu questa parte verde scendo con le Y fino ad includere il mio rettangolo ok, c'è questa parte sopra che probabilmente non mi serve ma io voglio anche andare a prendere per esempio questo rettangolo quadrato celeste sto allungando, come vedi sto premendo aspettando che venga graficata in parte viola la zona che posso trasportare clicco con il tasto sinistro lo tengo premuto e mi sposto piano piano ok, adesso prendo anche un po' di aria ok, perché poi andrò a incollare il tutto aria compresa allora, io voglio prendere questa parte cosa faccio? copy quindi lo copio se avessi fatto cut lo avrebbe anche tagliato cioè rimosso da questa parte vado nelle badlands nel mondo che ho aperto poco fa aspetto che sta graficando vediamo un po' che sta succedendo proprio mentre faccio il video come on! allora, chiudiamo questo mondo save, no! e lo riapriamo badlands ok, aprimolo vediamo se riuscirà il nostro eroe perfetto allora, io mi faccio una panoramica c'era da qualche parte un bel posto dove metterlo per esempio qua ok, lo metto qua e a questo punto io l'ho appena copiato e vedete che ho il paste ok, quindi lo posso incollare non riesco a sollevarlo tanto bene però per adesso dico ok, io lo vorrei mettere in questo punto ok clicco con il tasto sinistro a questo punto con questi valori vado a muoverlo opportunamente allora, il primo caso io lo voglio lasciare esattamente non lo voglio fare preciso voglio farti capire che io adesso sto copiando e incollerò anche l'aria cioè andrà a mettere anche proprio l'aria del mio rettangolo vado a dire conferma poi tolgo la selezione e come vedi ha messo l'aria dove stava diciamo l'aria selezionata se io adesso facessi paste di nuovo ok mi trovo in quest'altra condizione ok, posso fare così lo sollevo appena appena per far vedere un po' di più il celeste ok poi però tolgo l'aria e vado di conferma e me lo va select ad integrare opportunamente ok lo vado a mettere insieme uno dopo l'altro per bene poi posso fare di nuovo il paste perché oltre a metterlo un po' in aria ok così togliamo l'aria io posso anche farlo ruotare come vedi così 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 180 meno 180 ok oppure lo faccio ruotare rispetto all'asse delle X ok il celeste come vedi è andato in alto capovolti completamente ok oppure rispetto all'asse delle Z sicuramente è molto comodo l'asse delle Y se vado in free rotation ti faccio vedere che posso ruotarlo opportunamente ovviamente ti consiglio di utilizzare degli angoli comodi comodi tipo il 15 il 30 il 45 vado in confirm con il 15 tolgo la sezione questo è il risultato so che non è diciamo il massimo poi vado a fare paste guarda che si mantiene la rotazione fatta in precedenza cioè 15 io vado anche un po' a sollevarlo ok io adesso metto 30 scrivo direttamente 30 vado in confirm confirm l'ho fatto sì select ok già diciamo rende un po' di più vado in paste ovviamente il 45 su diciamo oggetti facciamo così 45 di tipo quadrati sicuramente sono più facili da rappresentare e graficare in effetti rende un po' di più ok ora andiamo a prendere altri pezzi da mondi differenti allora molto velocemente andiamo a selezionare una parte di un mondo minecraft java ok esattamente questo vado a selezionare questo albero ok così qua mi sto perdendo un paio di foglie le allargo probabilmente il terreno non mi serve e quindi questo è blu vado ad aumentare diciamo le y delle blu dovrei essere riuscito qua becco tutto ok allora faccio dove è dove è cobi vado nel mondo delle bedland ok e gli mettiamo un bel paste di un albero lo mettiamo esattamente qua sopra ok così e poi utilizzo utilizzo le y vediamo quanto devo andare in alto ops ho preso anche un po' di erba ok credo che questo sia il posto più adatto 0 tolgo la rotazione così è allineato perfetto e vado in confirm select e abbiamo un bell'albero esattamente lì sopra l'abbiamo preso da minecraft java questo mondo posso anche chiuderlo così magari mi risparmio risorse non salvo niente poi voglio invece andare a selezionare una sfera come si seleziona una sfera ebbè bisogna comunque riuscire a costruire un rettangoloide come vedi la costruzione non è immediatissima mi allargo un po' di qua becchiamo la parte esterna l'ultima zucca di qua l'ultima zucca qua ci allarghiamo sto tenendo remuto becchiamo la zucca dovrebbe essere all'interno del nostro rettangoloide ed infine ultima zucca poi mi abbasso pure questo scendo piano piano dovremmo essere arrivati in basso ok dovremmo avere selezionato il nostro piccolo saturno di luminite vado in copy andiamo torniamo nelle bed anzi facciamo così andiamo in cut così lo tagliamo da questo lato e poi andiamo a metterlo nell'acqua dove era l'acqua 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 da queste parti ok lo mettiamo facciamo due cose allora facciamo paste anzi facciamone tre di cose un paste così saliamo un po' ok uno è questo perfetto facciamo un po' più in alto poi ti faccio vedere questo facciamolo così ok e poi lo facciamo anche ruotare a questo punto così vediamo anche le funzionalità delle delle x ok ruota in quel lato ruota in quest'altro lato ok così e ruota anche in quest'altro lato ok sta un po' in diagonale si è piegato verso questo lato scendo e continuo ah scendo ok e questo ci va bene così confirm l'abbiamo ovviamente quando diciamo gli cambiamo un po' la rotazione si possono creare dei buchi internamente poi paste nuovamente si sta mantenendo la nostra diciamo modifica andiamo lo portiamo in alto e se noi volessimo un po' raddoppiarlo farlo un po' più grande come potremmo fare allora facciamo intanzitutto ti spostiamo di qua perché ci serve un po' di spazio ops ops era meno 90 dov'è eccolo qua siamo un po' allargati di qua forza 1,2,3 non andare troppo veloce non scompari ehi ok lo lasciamo qua perfetto allora dov'è lo scale lo ingigantiamo 1 2 proporzionalmente abbiamo letteralmente raddoppiato confirm abbiamo letteralmente raddoppiato ok se volessimo ultima cosa paste invece scalarlo un po' in maniera un po' più idonea mettiamo 1 1 e 1 ok dove sei mettiamoci qua ti porto su un po' più su dai ok perfetto un po' più su così allora se io volessi per esempio allungarlo un pochetto invece di 1 facciamo 1 e 20 ok e di qui 1 anzi lo facciamo 0 80 0 punto virgola 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 80 invio l'abbiamo un po' deformato vedi si sta allungando abbiamo trasformato una sorta di ellisse ok poi ovviamente possiamo piegarla come abbiamo fatto prima per esempio così vediamo un po' di effetto 80 60 ancora più stretto esattamente così confirm select ok e questo è il risultato come vedi niente di più semplice se non selezionare l'oggetto che vuoi e portarlo dall'altro non ti dimenticare di salvare il tutto ora andiamo ad aprirlo questo mi sembra che è un mondo minecraft education edition vediamo se le modifiche sono state apportate non sono in minecraft java edition perché quei mondi erano in minecraft java scusami minecraft education edition questo era il mondo da cui abbiamo preso delle parti e messo in quest'altro questo come vedi non era ti faccio rivedere la diciamo l'immagine l'ultima immagine che ho giocato era completamente un bioma delle bedlands io adesso vado a cliccare vediamo se magicamente sono comparsi oggetti colorati alberi e magari pianeti volanti fatti di luminire mi sembra che qualcosa c'è ok come vedi dov'è il pianeta il pianeta eccolo qua ok come vedi ci sono dei buchi nel momento in cui inclina ovviamente poi dovresti un po' riempirlo tu però il risultato è assolutamente fantastico magari scrivimi nei commenti se vuoi vedere come si importano ed esportano strutture con amulet è veramente semplice prima di saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe minecraft bedrock completamente gratuite su venezia e su pitagora e trovi anche il link per agganciarti al nostro server discord ed al nostro server minecraft che è sia bedrock che java attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane poi se non già fatto iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server discord qui sul canale youtube qualcuno ha cominciato anche a caricare le proprie creazioni che come vedi condivido con piacere detto questo commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto Cristiana Federica e Francesca dal canale youtube che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento ciao ciao